Macello, ti aspettavi un divario così netto tra le due squadre? Onestamente no, credo che però questa sera bisogna fare i complimenti alle mie ragazze per come hanno interpretato tatticamente la partita, nel limitare le loro uscite e nel giocare tatticamente ad alto livello. In generale come sta andando la vostra stagione? Siete stati gli unici a togliere un punto alla CACI? Sì, abbiamo perso per qualche errore troppo in battuta, siamo una squadra che non ha grandi stelle, non ha campioni come altri in Turchia, però abbiamo trovato una buona identità di gruppo sin dall'inizio e riusciamo a fare anche belle partite, quindi vediamo dove riusciamo ad arrivare. Se facciamo uno scalino mentale credo che possiamo arrivare davvero vicino alle grandi, però ancora la stagione è lunga. Cosa ti aspetti al ritorno da Busto? Aspetta una battaglia, per fortuna siamo in casa ma è una battaglia. Grazie.